Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. In A1, tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico e Aglio, in direzione Bologna. Incidente tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano, in direzione Roma. Sulla FIP-Li per lavori, rampa di accesso chiusa in entrata a Livorno-Porto, in direzione Firenze. Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Eraest, in direzione Livorno. Sulla Statale 1 Aurelia, svincolo chiuso per lavori a Gavorrano, in direzione Sud. Per lo stesso motivo è chiuso anche lo svincolo di Cecina Nord, in entrambe le direzioni. Infine per i treni, proclamato uno sciopero del personale, dalle 10 alle 14 di oggi e dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!